L'estate 2012 canta Antonio Onorato! Buonasera Antonio, a lei rivolgo una domanda, come è nata in lei la passione per il canto? Quando è nata? Da piccolo, da sempre. Allora, qui a Marano Estate 2012 canta Antonio Onorato! Buonasera Antonio, a lei rivolgo una domanda, come è nata in lei la passione per il canto? Non può come perché, basta che c'è sto solo, che c'è rimasto male, non è ancora ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto 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 e chi ha rata rata rata, scurta amba ci ho passato, se mi è nata per la paesa. Buonasera Antonio, a lei rivolgo una domanda, come è nata in lei la passione per il canto? Buonasera Antonio, a lei rivolgo una domanda, come è nata in lei la passione per il canto? Non è ancora ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto 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 e chi ha rata rata rata, scurta amba ci ho passato, se mi è nata per la paesa. Chi ha avuto 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 av Quando sta stando a luci, signorice dice a noi, che c'è stata a casa mia, sono rimasto sui denti. E chi è niente, chi è niente, sta via, papà non sta giù, Fabrizio e Farni, basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, non è ancora ancora una canzone per cantare. E chi è niente, 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 chi è Grazie a tutti